siete quasi 500 quindi sì direi che possiamo iniziare il webinar di oggi allora ben arrivati oggi siamo al secondo appuntamento di questo ciclo di webinar dedicato all'accessibilità dei contenuti digitali il primo webinar si è svolto il 23 febbraio abbiamo parlato di con Claudio Celichin e Fabrizio Caccarello degli errori più comuni che sono stati riscontrati nel monitoraggio che ha svolto sui siti della pubblica amministrazione e su qual è l'importanza delle informazioni semantiche la registrazione è disponibile su eventi PA quindi se volete rivedere quell'intervento trovate già i materiali online nel webinar di oggi parleremo invece di come dialogare correttamente con le tecnologie assistive nel terzo e ultimo webinar previsto il mercoledì 13 aprile sempre a quest'ora dalle 12 alle 13 e 30 vedremo quali sono gli errori più comuni relative ai contenuti non tessuali e qual è l'importanza e il contrasto minimo per garantire l'accessibilità a tutti gli utenti i relatori alcuni li avete già conosciuti li abbiamo riportati in questa slide in rigoroso ordine alfabetico avete già conosciuto Fabrizio Caccarello e Claudio Celechino oggi avremo invece Michela Calanna e Roberto Scano vediamo il programma della giornata abbiamo due appunto questi due interventi inizierà Roberto Scano che ci parlerà di come creare collegamenti chiari e comprensibili nel secondo intervento invece Michela Calanna ci presenterà come interagire con le tecnologie assistive nome ruolo e valore quindi entreremo proprio su aspetti tecnici per la realizzazione di contenuti accessibili a differenza del programma che conoscete che era disponibile sui NTP abbiamo deciso di dedicare una sessione di domande e risposte al termine di ognuno degli interventi e poi magari al termine dei due interventi se ci sono ulteriori domande ridaremo la parola anche al primo relatore per rispondere a eventuali domande che sono arrivate nel frattempo vi anticipavo i relatori sono Michela Calanna esperta di accessibilità eh della di Agid e Roberto Scano esperto di accessibilità competenze digitali e tante altre cose ehm questo questo ciclo di webinar rientra tra le attività del progetto informazione informazione per la transizione digitale per l'attuazione del progetto Italia Login la casa del cittadino e ehm che oltre a questo ciclo di webinar sta portando avanti tutta un'altra serie di attività di formazione informazione rivolte ai responsabili per la eh transizione digitale e non solo un'ultima informazione di servizio prima di dare la parola al primo relatore vi ricordiamo che eh entro il trentuno marzo tutte le pubbliche amministrazioni devono eh compilare eh gli obiettivi di accessibilità la procedura è molto semplice andate sul sul sito il responsabile della transizione digitale della vostra amministrazione deve andare sul sito formo.agid.gov.it accredit a accedere al sito e da lì è possibile compilare eh gli obiettivi per l'anno in corso e mh c'è tempo fino al trentuno marzo quindi ve lo ricorderò magari anche al termine di di questo webinar perché è una scadenza molto importante per chi si occupa di questi argomenti. Allora io non voglio rubare ulteriore tempo ai relatori siete in questo momento oltre seicento partecipanti per questo ciclo di webinar abbiamo avuto eh abbiamo raggiunto il limite massimo degli iscritti eh al webinar speriamo che qualche altro collega si unirà durante il webinar in ogni caso come vi anticipavo la registrazione sarà liberamente disponibile sul nostro sito. Bene a questo punto io direi di dare la parola a eh Roberto Roberto quando ti vedo in video perfetto ti vedo a questo punto ti lascio la parola buon intervento a tutti e vi ricordo di utilizzare la chat per rivolgere domande richieste di chiarimento in qualsiasi momento. Prego Roberto. Bene grazie Bill e grazie come sempre per l'ospitalità eh il mio intervento è diciamo è specifico di una problematica spesso riscontrata nel nei siti e nei servizi anche delle pubbliche amministrazioni perché eh ricordiamoci che quando parliamo di sito web a livello normativo non si tratta solamente del sito istituzionale ma di tutto ciò che è basato su tecnologia web. Il problema che spesso abbiamo riscontrato effettuando le analisi eh per conto di Agid eh di cui mi devo occupare è la creazione di collegamenti chiari e comprensibili. Eh questa problematica ha origini, origini storiche eh esiste già dalle primissime versioni delle regole dell'accessibilità. Eh prima di iniziare vorrei fare una piccolo recap, un piccolo riepilogo sul tema dell'accessibilità eh per far comprendere meglio di cosa stiamo parlando per questa tipologia di errore. Le WCAG, Web Content Accessibility Guideline che sono arrivate alla versione 2.1, sono state pubblicate nel giugno del 2018 e da settembre del 2018 avete la traduzione lingua italiana, sono riferimento internazionale per l'accessibilità. Sono riferimento anche normativo, tecnico normativo perché a livello europeo e quindi anche a livello nazionale abbiamo recepito una direttiva europea che si chiama Web Accessibility Directive al cui suo interno si fa riferimento ad una norma tecnica che si chiama EN 301549 che recepisce per l'ambito Web le WCAG. Quindi stiamo parlando di una recommendation come si definisce a livello internazionale che è diventata cogente, si chiama pertanto norma tecnica armonizzata perché diventa obbligatoria per alcuni soggetti, nel nostro caso per le pubbliche amministrazioni. Anche per alcune tipologie di aziende in futuro dal 2025 e dal giugno del 2025 per tutti i soggetti esclusi i privati e le microimprese. Le WCAG sono organizzate in livelli, in principi che sono 4, in linee guida che sono 13 e in criteri di successo che sono 82. A livello normativo i criteri di successo sono suddivisi in tre livelli, livello A, livello AA, livello AAA. A livello obbligatorio normativo i livelli sono 2A e AA. Tutti i criteri di livello A e AA hanno uguale peso, quindi che sia un criterio di livello A che sia un criterio di livello AA ha comunque la medesima importanza sotto l'aspetto normativo. In questo caso di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo del criterio di successo 2.4.4 scopo del collegamento nel contesto. Che significa 2.4.4? 2 è il principio, come vi dicevo sono quattro principi, in questo caso è il principio utilizzabile. L'utente deve poter utilizzare le informazioni e i contenuti di cui ha conoscenza, di cui ha la percepibilità. 4 è la linea guida all'interno del principio 2 che è navigabile, quindi parliamo della capacità dell'utente di utilizzare i contenuti e di poterli navigare. Il punto 4 è il quarto criterio di successo contenuto nella linea guida 4, quindi i criteri di successo vanno letti in questo modo. Il primo valore è il principio, il secondo è la linea guida, il terzo che va da 1 a 10, 11, a seconda delle linee guida, è il riferimento all'effettivo criterio di successo. Il criterio di successo in questo caso è scopo del collegamento nel contesto ed è un criterio di successo di livello A, quindi a livello internazionale è comunque considerato essenziale per garantire l'accessibilità. Leggendo il testo che descrive il criterio di successo dice che lo scopo di ogni collegamento può essere determinato dal solo testo del collegamento oppure dal testo del collegamento insieme ad altri contenuti contestuali, quindi accanto diciamo che fanno da contorno al contenuto stesso, che possono essere determinati programmaticamente. Che significa determinati programmaticamente? È una definizione che abbiamo inserito anche all'interno delle regole di accessibilità, significa che la macchina, nel nostro caso la tecnologia assistiva, può capire di cosa si tratta, può comprenderla e può rappresentarla all'utente. Dice salvo il caso in cui lo scopo del collegamento potrebbe essere ambiguo per gli utenti in generale, quindi il concetto è diamo qualcosa in più per gli utenti che usano magari la tecnologia assistiva per comprendere meglio i contenuti, permonestando che non ci sia un caso particolare che creando questa soluzione stiamo creando problemi alla generalità degli utenti. Qual è quindi lo scopo? È quindi di garantire che il criterio di successo potrebbe comprendere in modo chiaro la destinazione del collegamento. Quando noi navighiamo, navighiamo in modo visivo, abbiamo una comprensione di cosa si tratta magari per un particolare link. Pensiamo nell'esempio che ho riportato, pensiamo ad un negozio online di poter, dove possiamo acquisire dei libri, acquisire dei documenti in formato digitale, abbiamo magari dei link che ci fanno scegliere qual è la versione utilizzabile da scaricare in pdf, epub, html, formato compresso e via dicendo. Noi visivamente abbiamo questa cognizione, quindi possiamo tranquillamente cliccare nella link magari pdf per scaricare la versione in formato pdf. Ma se noi siamo degli utenti che utilizzano magari delle tecnologie assistive, magari sono persone non vedenti che quindi usano uno strumento che solitamente è il lettore di schermo, ossia un'applicazione che è in grado di leggere i contenuti testuali e predisporli in modo corretto, in modo corretto da parte diciamo del... in modo che l'utente ne possa fruire senza particolari difficoltà. Quindi in questo caso l'utente potrebbe anche scegliere di navigare la pagina per differenti modalità. Non è detto che voglia leggere tutti i contenuti. Magari vuole navigare la pagina leggendo i titoli, che è tema di altra attività formativa, ma può navigarli anche cercando per link. Quindi se io entro in una pagina e mi faccio elencare tutti i link, sono in grado, se i link sono fatti nel modo corretto, di poter capire e accedere direttamente alla risorsa che mi interessa. Quindi come noi abbiamo il colpo d'occhio per selezionare il contenuto che ci interessa, il link che ci interessa, la stessa cosa può fare l'utente con lettore di schermo e saltare quindi direttamente al contenuto. Se chiaramente facciamo contenuti, collegamenti che siano chiari e comprensibili. Abbiamo diversi casi, vi porterò alcuni esempi, in questo caso vi faccio cinque esempi di errori da evitare quando generate i collegamenti. Come vi dicevo prima, il termine dell'accessibilità dei link riguarda un po' tutto. Riguarda sia i contenuti generati, sia gli applicativi, sia anche l'interfaccia generale del vostro sito. Quindi le responsabilità di questi errori possono essere diverse. Possono essere dovute a chi vi ha fornito il CMS, per cui il prodotto genera dei contenuti in un determinato modo e i link li genera esclusivamente con tale modalità. In questo caso bisognerà segnalare al fornitore del vostro CMS, guardate che questo va in violazione del criterio di successo 2.4.4 delle regole di accessibilità. Un altro caso potrebbe essere un applicativo, pensiamo un gestionale, pensiamo un sistema di post elettroniche via web. In questo caso è comunque un applicativo fornito da terzi che se crea problemi di accessibilità a dei vostri colleghi magari con disabilità o a degli utenti che entrano magari in un'area riservata e devono scaricare dei documenti, informazioni e quindi l'applicativo, il gestionale web non garantisce un'accessibilità dei link, anche in questo caso va segnalato al vostro fornitore di verificare la conformità con le regole di accessibilità. In altri casi invece siete voi a generare queste problematiche, adesso vedremo quali sono i casi in cui le potete generare anche voi, usando magari un link non chiaramente comprensibile o usando terminologie non totalmente corrette potete creare difficoltà all'utente con tecnologia assistiva. Attenzione, questo tipo di errori potrebbe non essere bloccante totalmente per le persone con disabilità e che utilizzano magari tecnologie assistive come lettore di schermo, però potrebbe rallentargli la navigazione e renderla più tortuosa, quindi dovremmo cercare di evitare il più possibile queste tipologie di errori. Passiamo dalla prima, quella che solitamente è generata da chi produce contenuti, quindi l'errore che potreste fare voi o dei vostri colleghi che fanno redazione di contenuti. I famosi link clicca qui, clicca qui evidenziando solamente la parola qui. Il problema cos'è? Che l'utente, ripeto, che naviga con tecnologia assistiva e che quindi magari dice voglio conoscere i collegamenti all'interno della pagina, entra ipotizziamo nella pagina che parla di un bando di gara e trova un link dove c'è la parola qui che è contenuta in una frase, clicca qui per scaricare il testo del bando. Quindi entro nel bando, cerco i link, mi legge qui, io posso ipotizzare che qui mi porti a una destinazione di ciò che mi interessa, ma non è detto, magari vado a cliccare un qualcosa, vado a selezionare un collegamento che poi mi porta da tutt'altra parte. Quindi in questo caso dovremmo evitare innanzitutto clicca qui o clicca qui, oppure mettere anche segui questo collegamento, cioè usare qualcosa anche di tipo sensoriale. Cerchiamo di dare un link che sia chiaro. Quindi tornando all'esempio della pagina magari del bando di gara, mettere per esteso il link, lasciando la parola, scarica il bando di gara numero X, XYZ. Il clicca qui non può essere, sto leggendo una domanda di Simone Ferri, visto mi è capitata giusta a colpo d'occhio, il clicca qui non dovrebbe essere disambiguizzato con guai aria, perché comunque il clicca qui può creare problemi anche a persone con difficoltà cognitive. Può creare problemi anche a altre disabilità. Il guai aria, come vedremo più avanti, viene utile per i lettori di schermo, ma questo criterio di successo non è solamente per le persone che usano lettori di schermo, ma anche per chi ha difficoltà di tipo cognitivo. Quindi andrebbe evitata questa soluzione. Quindi creiamo collegamenti che siano chiari, che siano un gruppo di parole che consentano all'utente di identificare chiaramente che sta scaricando la determina, sta scaricando un allegato. Quindi un qualcosa di chiaro che sia visibilmente un link coerente con il testo che sta attorno e che sia un link chiaro e disponibile per le persone che usano tecnologie assistive. Quindi anche leggi tutto, scopri di più, direttamente non vanno bene, questi li vedremo tra poco, perché un problema è anche in alcuni casi la ripetizione di collegamenti con una molteplice ripetizione dello stesso testo. Un altro problema è quando si parla dei formati da scaricare. Questo magari lo troviamo in trasparenza amministrativa, lo troviamo anche in alcuni bandi stessi. Rendo disponibile il bando di gara in più versioni, in PDF, in docx e magari c'è un allegato in formato xlsx o ODT o DF in altri formati, il link lo inserisco esclusivamente al formato del file. Però in questo modo direttamente non so a cosa mi porta. Quindi se io ho magari in una pagina un link a PDF, un link a un docx, a cosa mi porta? Quindi per motivi di impaginazione magari non posso mettere un link completo con scritto scarica il bando in versione PDF. Questa cosa potrei, dovrei metterla utilizzando degli altri attributi. Ci sono degli attributi previsti dalla specifica delle pagine web dell'HTML, uno di questi è l'attributo title, che tra l'altro diventa visibile anche agli utenti che non utilizzano sistemi di lettore di schermo perché se io passo al di sopra di un link con il mouse e c'è un attributo title mi viene visualizzato come etichetta. Quindi in questo caso potrei usare questo attributo title per dire scarica il bando in formato PDF. Quindi mi diventa un test ulteriore che viene letto anche dalla tecnologia assistiva, che viene visualizzato e quindi letto dagli utenti quando passano al di sopra con il mouse o arrivano con il focus all'oggetto del link e in questo modo quindi diamo maggiore informazione all'utente di cosa sta scaricando. Anche qui alcuni suggerimenti. Se possibile l'ho visto fare, ci sono strumenti automatici ad esempio per la trasparenza amministrativa o anche per i bandi per cui quando nel vostro applicativo caricati i documenti, automaticamente il software vi crea il link. Ecco in questo caso dovete dire al fornitore del vostro software guardate che dovete aggiungere un attributo title che mi dia ulteriori informazioni, ad esempio versione PDF del documento X, magari mettendo anche il peso del file eventualmente, quindi dare comunque del supporto all'utente su questa tematica. Altro problema che si riscontra in parecchi casi ma dovuti in questo caso a redattori è mettere il link totalmente esteso in modalità visibile. Questo può essere un accorgimento utile se lavoriamo magari dentro un documento, quindi in un formato documentale scaricabile metto un link, magari lo metto a piedi pagina, non lo inserisco direttamente nel testo, perché inserirlo direttamente nel testo diventa anche una spaginazione del contenuto. Qual è anche il problema che abbiamo? Il problema che abbiamo è relativo al fatto che io non posso in questo caso dare una lettura al lettore di schermo che sia ripetitiva. Se io metto un link esteso dentro il contenuto mi leggerà link http www tutto il contenuto e poi me lo rileggerà perché è l'informazione aggiuntiva del link. Quindi in questo caso dovrei evitare questo tipo di informazione perché generando questo link sto facendo una ripetizione anche inutile del testo effettivo del collegamento. Sto forzando una lettura doppia di un contenuto. Quindi anche in questo caso rimandiamo alle nozioni viste in precedenza. Creiamo link che siano sufficientemente comprensibili. Vedo anche in chat una domanda di Carlo Poggi che dice che da mobile l'attributo title non lo posso leggere quindi non è una soluzione accessibile al cento per cento. È vero il problema diciamo del mondo del mobile è legato ad altre tematiche. È chiaro che anche se utilizzo Y-Area come adesso andremo a vedere è una funzionalità che ho solamente per il lettore di schermo. In questo caso ci sono delle possibilità. Infatti se io all'interno del link tengo premuto cioè all'interno del mobile tengo premuto un po' di più il collegamento mi esce le informazioni utili come menu contestuali o comunque come altre funzionalità. Quindi mi dà la possibilità di capire cosa sto facendo in quel collegamento. Se il link tra l'altro è autoesplicativo non è necessario mettere l'attributo title quindi se il link è scarica il documento pdf come dicevamo prima non serve un attributo title. L'attributo title serve quando il link da solo non è in grado di parlare all'utente di dare le informazioni necessarie per comprendere diciamo come dove porta magari quel collegamento che tipo di file va ad aprirmi questa tipologia di collegamento. Altra cosa collegamenti ambigui. Questo è l'ho visto passare prima nella chat. Abbiamo moltissimi sistemi pensiamo a wordpress pensiamo a comunque quasi tutti i CMS che quando abbiamo il nostro sito istituzionale cosa facciamo? Riempiamo l'home page o comunque le pagine interne le pagine di sezione di notizie di approfondimenti di contenuti. Chiaramente non possiamo mettere tutto il testo degli articoli dei contenuti all'interno del blocco principale perché altrimenti verrebbe fuori una home page lunga chilometri e diventerebbe anche di difficile fruibilità da parte di utenti con alcune tipologie di disabilità. pensiamo anche a difficoltà motorie, difficoltà cognitive. Quindi cosa viene fatto solitamente? Viene inserito il titolo diciamo il riferimento all'articolo, un'immagine magari decorativa e poi c'è un link approfondisci, leggi di più, scopri di più che sono terminologie attenzione che si possono utilizzare. Non sono vietate, non esiste nessuna norma che vi vieta di usare queste terminologie. L'unico problema qual è? Che tornando al dialogo con le tecnologie assistive sono tutti link uguali. Se io ho dieci link approfondisci il lettore di schermo navigando per link mi dirà link approfondisci, link approfondisci, link approfondisci. Ma cosa approfondisco? Cosa vado ad approfondire? Qui abbiamo diverse possibilità. Io ho portato l'esempio leggi di più con la freccetta, altro esempio in cui si cade negli esempi. Qui abbiamo due possibilità. Una che possiamo farla noi, anche l'altra potremmo farla noi se siamo dei redattori. Però come vi dicevo prima questi pulsanti, solitamente questi link leggi di più approfondisci sono fatti dai sistemi di pubblicazione. Non siete voi che create i link, create le pagine con leggi di più o approfondisci. Quindi in questo caso bisogna sentire il fornitore. Ci sono due possibilità. Possiamo riusare quell'attributo title che si diceva prima per cui aggiungo un attributo title in cui il link magari leggi di più, l'attributo title mi riporta cosa? Il titolo della notizia, il titolo dell'articolo. Quindi in questo caso il link verrebbe letto come il link leggi di più, titolo della notizia. Oppure potrei usare un'altra soluzione a livello di codice che si chiama Arial Abel in questo caso. Arial Abel cos'è? È un'istruzione, è un attributo come title che viene aggiunto a livello di codice che di fatto cosa fa? Sostituisce per il lettore di schermo, quindi per la persona che usa una tecnologia di lettura dello schermo sostituisce il testo che noi vediamo con il testo che viene tra virgolette nascosto a chi ha il dono della vista ma viene reso visibile alla tecnologia che legge per chi non ha il dono della vista. Quindi il caso diciamo più corretto sarebbe questo di Arial Abel dove è possibile implementarlo per cui potrebbe essere scritto continua la lettura dell'articolo X. Quindi una frase anche abbastanza lunga ma che dà una comprensione univoca per ogni link leggi di più. Quindi nel lettore di schermo non avrà leggi di più, n leggi di più, ma avrà n link diversi, tutti collegati al titolo. Quindi sarà leggi di più oppure approfondisci continua la lettura dell'articolo X e quindi in questo modo potrà scegliere agevolmente il contenuto. Vedo che c'è Francesco Grasso che dice nel caso di leggi di più se il link è presente anche sul titolo della notizia va bene Arial Eden? Allora in questo caso sì, si potrebbe perché l'esempio che fa giustamente Francesco come funziona come dicevo prima solitamente c'è il link dell'articolo poi c'è un piccolo riassunto e poi c'è il pulsante leggi di più che comunque rimanda allo stesso link del titolo dell'articolo. Quindi in questo caso giustamente si potrebbe anche nascondere leggi di più perché io posso tornare quindi usando sempre il lettore di schermo usando i comandi posso tornare al link precedente e quindi aprire il collegamento al contenuto. Ci sono delle classi come giustamente dice Daniele c'è ArialAble ma ci sono anche delle classi che sono SR Only. Questa è un'altra soluzione che è leggermente diversa. Questa soluzione cos'è? SR Only mi fa una funzionalità diversa. Allora mentre a ArialAble mi aggiunge un testo letto solo dalla tecnologia assistiva, SR Only mi aggiunge del testo che viene letto solo dalla tecnologia assistiva. È equivalente diciamo, è più pulito secondo me usare ArialAble rispetto a SR Only perché di fatto uso diciamo un qualcosa di nativo dell'HTML. Torniamo agli esempi che facciamo sempre anche con i miei colleghi quando parliamo anche di app. Se devo creare un oggetto prima di crearlo da zero vado a vedere se esiste già un qualcosa nella specifica per farlo. Perché se devo reinventarmi un pulsante, reinventarmi una funzione, lo posso fare nessuno me lo vieta però dovrò farla accessibile come quella originale. Quindi attenzione si può usare ripeto in Bootstrap c'è la classe per il foglio di stile che si chiama SR Only che quindi nasconde la visibilità di questo contenuto a tutti gli altri. Però il mio consiglio è se potete usare ArialAble in questo caso usate ArialAble. Sono entrambe buone soluzioni però la mia preferenzialità è verso ArialAble. L'errore che si trova ovunque e questo è diciamo particolarmente sentito non solo dalle persone che usano il lettore di schermo ma anche da chi ha difficoltà di movimento agli arti superiori ma anche di chi ha difficoltà cognitive è l'usanza di aprire collegamenti su nuova finestra. L'apertura di link su nuova finestra ha origini nello scorso millennio. Perché ha origini nello scorso millennio? I più anziani di voi che si occupano di web dallo scorso millennio si ricorderanno che esistevano i siti web fatti a frame. Che significa frame? C'era una struttura stabile fatta da diverse pagine web e io potevo aprire nuove pagine tenendo una struttura. Adesso abbiamo i cms che ci fanno la grafica e tutto ma una volta fare la grafica era fare la manina quindi bisognava fare la grafica e i menu di navigazione per ogni pagina a manina. Era un lavorone. Per evitare questo si faceva questa struttura a frame per cui il menu rimane sempre fisso la testata magari rimane sempre fissa e cambia solamente il contenuto. In questo caso si usava un attributo che si chiama target per aprire il link dalla finestra del menu aprirlo dentro il contenuto principale. Tra i vari target c'era un attributo che era target blank ok target blank significa apri su nuova finestra che adesso con i browser attuali diventa apertura anche di nuova scheda. Qual è? Qual è il problema? Qual è il problema di questa azione? È che se io non informo l'utente che sto aprendo il link su nuova finestra e anche qui potrei a monte bisognerebbe chiedersi se e quando aprire link su nuova finestra perché molti dicono apro link su nuova finestra magari di collegamenti a siti esterni o comunque a contenuti esterni in modo che l'utente rimanga dentro il mio sito e quindi gli apro nuova finestra per navigare il contenuto degli altri. Il problema però è anche questo. Io sto aprendo un collegamento su nuova finestra quindi sto spostando l'utente, sto spostando l'attenzione dell'utente su una nuova finestra. Allora finché siamo noi che non abbiamo particolari problematiche o disabilità può essere fastidiosa ci apro un nuovo tab, ci apro una nuova finestra e torniamo agevolmente alla pagina che ci interessa. Ma mettetevi nei panni di chi usa una tecnologia assistiva, un lettore di schermo, di chi ha scarsa mobilità agli arti superiori o di chi ha difficoltà cognitive che si vede cambiare completamente il contesto, viene spostato e viene quindi creata una problematica all'utente. State scrivendo in chat il target blank ad esempio è usato per leggere un documento in formato pdf quindi per aprirlo su nuova finestra. Allora io vi faccio un altro discorso alla base che è la base dell'accessibilità. È l'utente che deve essere in grado di controllare il contenuto. Chiunque di noi può aprire il link su nuova finestra anche per un link per cui voi non avete definito l'apertura su una finestra. Sta a noi tasto destro che abbiamo l'abilità di usare il mouse e dire apri su nuova scheda, apri su nuova finestra. Dovremmo lasciare all'utente la scelta. Ma se, attenzione, vogliamo per forza aprire il link su nuova finestra perché il pdf vogliamo che si apra all'esterno, il link che rimanda alla pagina di Agido, alla pagina di Google Play per scaricare l'app, voglio aprirlo su nuova finestra. Lo posso fare, nessuna norma ve lo vieta, lo potete fare. La cosa importante è informare l'utente. Quindi abbiamo diverse anche qui possibilità di informare l'utente. Abbiamo anche degli automatismi che possono essere implementati a livello di codice. Ci possono essere, il vostro fornitore potrebbe creare del codice per cui se esiste l'attributo target uguale virgolette underscore blank chiuse virgolette aggiunge qualcosa. E cosa dovrebbe aggiungere? O cosa dovreste aggiungere voi se dentro magari un articolo volete rendere un link apribile su nuova finestra? Dovete aggiungere quantomeno, come si diceva, un attributo title, quindi con l'attributo title che vi dicevo prima potete aggiungere una nota link, il link si apre su nuova finestra, ok? Dare questa informazione anche se non usate l'attributo title, darla quantomeno tramite la funzionalità di area label che si diceva prima, quindi aggiungere magari al link un'etichetta sostitutiva che dice apro su nuova finestra, usare la tecnica che diceva prima un vostro collega in chat, usare sr only, quindi aggiungere al testo del link un parentesi apre su nuova finestra, in modo che informiamo l'utente, e io consiglio anche se usate uno script per automatizzare il target blank o se comunque avete una modalità per intercettare i link che vanno all'esterno, aggiungere anche come fanno alcune grandi aziende, fatevi in giro i siti di Microsoft, di Google o varie, che mettono anche una piccola icona grafica accanto a questo link che informa, come quella che ho rappresentato all'interno delle slide, che informa che il link si apre su nuova finestra. In questo modo, in questo modo diventa diciamo una soluzione utile alle persone con disabilità e anche con difficoltà cognitiva perché comunque sanno che questo link sarà aperto su nuova finestra. C'è una domanda, vedo di Daniele, che dice se il CMS che si usa non permette di aggiungere l'attributo title al link e non si è accesso al codice HTML, come si può fare? Va richiesto al fornitore del CMS la possibilità di fare tale attività. Questo vale anche per tutte le altre cose che abbiamo visto, perché se il problema si limitasse al target blank, ripeto, a livello di codice, si potrebbe intervenire e aggiungere qualcosa a livello di script per intercettare tutti i link di una tipologia e col target blank e quindi aggiungere automaticamente l'attributo title. Altra cosa, vedo una domanda così, anticipo anche la parte domande, di Martina che dice per i siti che hanno integrato Google Traduttore, impostare questi titoli in italiano può inificiare con la navigazione in caso di utenti navigassero con altra lingua, esempio inglese. Allora, io tra l'altro sconsiglierei il Google Traduttore, perché anche in questo caso è l'utente che eventualmente va a abilitarsi, va a prendersi la pagina e si attiva il traduttore, perché se voi inserite Google Traduttore, di fatto voi state riconoscendo la funzionalità di traduzione di Google. Quindi, se Google sbaglia a tradurre qualcosa e l'utente ha poi delle difficoltà di comprensione, di interazione con voi, perché gli è stata data un'informazione non corretta, voi state creando un problema all'utente. Quindi, allora, il concetto è, se dovete fare delle pagine, dei contenuti in lingua tradotta, in lingua inglese, in lingua francese, applicate, usati i traduttori, ma quelli veri, persone che fanno traduzione. Se avete conoscenza, parziale conoscenza di quella lingua, fatelo voi, utilizzando magari Google Translate per aiutarvi, ma che ci sia un essere umano a farla. Evitate quindi di automatizzare questa funzione. Ripeto, se un utente vuole tradurre il vostro sito, utilizza lui il sistema di traduzione, non è che dovete dare voi uno strumento che, ripeto, ha delle ambiguità che spesso non sono corrette. Allora, domanda, vedo di Pierluigi, dice, se il fornitore offre un prodotto CMS non in grado di generare pagine accessibili, il contratto bando è impugnabile? Qui dipende come avete fatto il contratto, perché se andiamo a vedere la norma tecnica europea, il CMS è visto come un software, è un'acquisizione di software, e quindi uno dei capitoli della norma tecnica, che è il capitolo 11 relativa al software, dice che il CMS deve aiutare a fare le cose accessibili. È chiaro quindi che eventualmente dovete chiedere nei rinnovi contrattuali che anche la parte amministrativa vi aiuti a generare contenuti accessibili, perché se è un prodotto web, attualmente con le regole di accessibilità le sue interfacce devono essere accessibili, quindi la parte amministrativa deve essere utilizzabile anche da persone con disabilità. Ma il fatto che vi aiuti a produrre contenuti accessibili è un qualcosa che riguarda altre regole che sono state inserite nella norma tecnica e che a questo punto dovreste contrattualizzare, quindi nei prossimi rinnovi inserite che anche il CMS deve aiutarvi a supportare la produzione di contenuti accessibili. Allora, altra domanda, è sbagliato inserire sia title e area label o basterebbe solamente area label? Allora, come dicevo prima, area label è dedicato ai lettori di schermo, title è dedicato anche alle persone che possono avere difficoltà di tipo cognitivo, quindi se diciamo se il link è già abbastanza comprensibile, basterebbe l'area, cioè è comprensibile nel contesto, basterebbe a questo punto l'area label in modo che l'utente con tecnologia assistiva ha la lettura del contenuto. Se invece non è sufficientemente comprensibile, quindi è necessario che l'utente magari si posizioni con il mouse o raggiunga l'oggetto, in questo caso è necessario dargli anche l'attributo title. L'attributo title è comparabile all'attributo tooltip che trovo nel CMS? Sì, probabilmente è quello, probabilmente è quella tipologia di informazione, a meno che il vostro CMS non crei un oggetto particolare che non è riconoscibile come attributo title, quindi è da verificare. Dovete vedere quindi, provare a aggiungere dentro il vostro CMS qualche parola, vedere se nel codice della pagina, andandolo a visualizzare, quella parola che avete inserito esce come title. Se esce come title è l'attributo title, se esce invece come oggetto aggiuntivo potenzialmente non viene nemmeno letto dalla tecnologia assistiva, potrebbe essere saltato completamente come tipologia di contenuto. C'è una domanda che mi ero perso all'inizio di Gennaro che dice, programmaticamente può essere reso come automaticamente da un software? Sì, determinabile programmaticamente significa che una macchina è in grado di leggere l'informazione e presentarla nel modo corretto all'utente con tecnologia assistiva nel nostro caso. Quindi un po' come il browser identifica l'attributo title programmaticamente, quindi ce lo fa visualizzare, come identifica il link e quindi ci fa vedere la sottolineatura, a meno che qualcuno non abbia tolto questo attributo by default, tutti gli attributi, quelli nascosti che dicevo prima, che si usano con guaiaria, di cui poi ne parlerà anche Michela su questo tema, tutte queste tematiche sono lette, si chiamano determinabili programmaticamente, ossia una macchina può identificare che è un link, è un titolo, è un campo di input e tutte queste, tutte queste tematiche. Allora vedo altre domande intanto, visto che io ho terminato, ho ancora cinque minuti, scorro un attimo le domande e così il famoso clicca qui può essere, questa ho già risposto prima, allora, gli short link, gli short link ho risposto, ah no, ok, quindi i sistemi che abbreviano il link, eh sì, lo stesso è vero, però effettivamente anche questi possono creare problemi, perché il fatto è, io sto facendo leggere al lettore di schermo dei contenuti, se io faccio leggere http, www e un link, anche se è breve, mi legge b, z, f, h, il problema cos'è? Il problema è che questo link mi crea difficoltà di lettura, mi viene letto un qualcosa che per me è incomprensibile, voglio un link che sia chiaro. Allora, anche sui paginator vedo Luca chiede, è necessario indicare area label sullo scorrimento delle informazioni? No, dipende come sono fatti, perché molti sistemi di paginazione già sono chiari, è già chiaro il blocco che è paginazione, quindi 1 diventa pagina 1, 2 diventa pagina 2, l'importante è che siano link univoci. Altre domande? Vediamo se non ho già risposto. Allora, anche un'ancora, come può essere segnalato? Allora, anche lì dipende, se è un'ancora interna, un link a un'ancora interna è sempre un link, quindi comunque è uno spostamento dell'utente e non gli crea problemi, non c'è un, diciamo sì c'è un cambio di contesto, però è uno spostamento all'interno della pagina, quindi può creare una problematica, però diciamo non arriviamo a questo livello di tra virgolette perfezionalismo. È importante che se ad esempio c'è un'ancora che mi riporta su, lì ci deve essere un testo alternativo che mi dice chiaramente che quel link mi riporta mi riporta in alto. Altre domande? Vediamo. Allora la pagina web esponesse già il formato del documento, sono necessari altri passaggi? No, è quello che ho spiegato prima. Se viene scritto, se nel contesto è scritto, sono disponibili in formato pdf, è importante chiarire che quel link pdf deve parlare un po' di più. Le domande sono tantissime, cerco un attimo di vedere a quali non ho risposto. Può essere lo stesso modo inserito apri in finestra di navigazione in incognito? Questo non capisco sinceramente il senso della domanda. Lì probabilmente ci sono delle indicazioni per aprire in modalità diverse le finestre, però ripeto, lasciate all'utente la scelta di come interagire, di come aprire le finestre, cioè fate il target blank dove effettivamente diventa necessario. Anche il fatto dei pdf, usando in modo corretto la consegna al browser del formato pdf, potreste già a livello di server forzare che non apre nuova finestra, ma glielo fa addirittura scaricare, glielo fa scaricare in locale. Allora, è possibile avere una benchmark tra WordPress e Core Media? Core Media non lo conosco, WordPress consente di fare queste cose ad esempio. Allora, scusate, spesso i codici CMS alcune volte sono forniti nella PA da società in appalto, come faccio a fare riferimento nel caso di CMS autoprodotto dalla società in appalto? Deve chiedere che verificano la conformità rispetto alle regole di accessibilità vigenti. Poi si parla di componenti aggiuntivi per l'accessibilità, ad esempio VP Accessibility. Questi componenti aiutano, diciamo, a aggiungere alcune tipologie di attributo title e via dicendo. Ricordate sempre una cosa, che nessuno strumento automatizzato può farvi nella verifica, nel fix automatico di tutte le regole di accessibilità. Quindi, usate con le pinze qualsiasi tipo di strumento. Cristian dice se i collegamenti devono essere visualizzati con la sottolineatura. Questo sarebbe argomento di un altro topic, però il concetto è se è un corpo centrale di contenuto, va garantito il sottolineato. Perché mentre nelle aree di menu posso capire che sono link, nel corpo centrale se uso solamente il colore, sto creando difficoltà di comprensione da parte di utenti. L'ultima, lo dico a chi dovrebbe stopparmi. Sì, allora, va ricordato giustamente che l'accessibilità non è solo, come dicevo all'inizio, sito istituzionale, ma tutti i siti. Una verifica va fatta di tutti i siti dell'amministrazione, anche degli applicativi, perché sono regole che vanno fatte in modo conforme. Mi si fa notare delle traduzioni automatiche di YouTube, mi fermo Gianluca, ok. Traduzioni automatiche di YouTube, anche lì vale lo stesso discorso. Vengono fatti in automatico, voi caricati i video, avete la possibilità di andarle a modificare, che è diverso dalle traduzioni di Google che le fanno in automatico. Mi fermo in caso, continuo dopo per non urbare tempo all'amica Michela. Grazie Roberto, si è stato chiarissimo e hai risposto anche a molte delle domande che sono state poste in chat. Le abbiamo raccolte tutte, quindi poi al termine del webinar, o se vuoi durante il webinar puoi anche rispondere in chat, o al termine dell'intervento di Michela. Comunque abbiamo raccolto tutte le domande e vedremo poi se è opportuno dare seguito magari all'inizio del prossimo webinar, oppure pubblicando su Eventi IPA le relative risposte. Roberto, ti stavo perfetto anche coi tempi, va benissimo così, direi però di passare all'intervento successivo di Michela Galanna, sempre di Agit. Michela, ti invito ad attivare il microfono e la webcam. Eccomi, buongiorno a tutti. Michela, non ti vediamo ancora, ti sentiamo bene, ma non ti vedo. Ecco, ti lascio la parola, anche tu hai 40 minuti per l'intervento e eventuali domande, che come hai visto sono numerosissime. Ti lascio la parola, prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto di essere qui presenti per questo intervento. Anche in questo contesto parleremo di tecnologie assistive, di quanto siano fondamentali in ambito di accessibilità, che ruolo importante investono le tecnologie assistive per l'interazione tra uomo e strumenti informatici. Di fatti gli utenti, in base al tipo di disabilità riscontrata, utilizzano differenti modalità per accedere ai contenuti web. Abbiamo differenti tipi di disabilità. Gli utenti con disabilità visiva solitamente utilizzano screen reader, dispositivi braille, quindi dispositivi che visualizzano linee di testo sullo schermo braille, ingranditori di schermo o zoom da browser, fogli di stile personalizzati per modificare, ad esempio, quelli che sono i contrasti colore o il ridimensionamento del testo. Utenti, invece, affetti da disabilità motoria, utilizzano software di riconoscimento vocale, dispositivi che registrano i movimenti dell'occhio o emulatori del mouse azionabili con la bocca, oppure utilizzano tastiere. In base al tipo di disabilità, queste possono essere tastiere espanse o ridotte. Utenti, invece, che presentano disabilità di tipo uditivo, utilizzano, quando presenti, descrizioni dell'audio, trascrizioni che riportano i dialoghi e il contesto ambientale, ad esempio, non so, può essere un podcast, le trascrizioni di un podcast, o sottotitoli. Mentre gli utenti che presentano disabilità cognitive possono utilizzare lettori di testo o sottotitoli per facilitare la comprensione dei contenuti, fogli di stile personalizzati per incrementare il contrasto colore o gestire quelle che sono le formattazioni del paragrafo, quindi lo spazio tra le lettere, le parole e i paragrafi. Oppure possono ridimensionare il testo, zoomarlo da browser o utilizzare altri strumenti per l'ingrandimento. Tra gli errori che riscontriamo maggiormente, ci sono gli errori del tipo 421, del criterio di successo 421, ovvero nome, ruolo e valore. Questo criterio di successo fa parte del principio di robustezza delle tecnologie assistive, del codice con cui implementiamo queste tecnologie, e dice infatti che tutti i contenuti dell'interfaccia utente, quindi compresi form, collegamenti e componenti generati da script, ma non solo quelli, il nome, il valore e lo stato deve essere impostato correttamente. E le notifiche di cambio stato di questi oggetti devono essere disponibili ai programmi utenti, compresi anche le tecnologie assistive. Deve essere adeguatamente comunicato. Pensiamo ad esempio a un radio button quando è selezionato. Questo esempio è un cambio di stato che va comunicato all'utente che utilizza una tecnologia assistiva. Fondamentalmente parliamo di semantica. Come potete vedere nell'esempio qui riportato in figura, faccio una nitida distinzione tra quello che è l'HTML 5 e l'HTML 4, ad esempio, come può essere strutturata una pagina utilizzando questo linguaggio nelle due versioni. Ad esempio, nella versione 5, abbiamo quella a destra, abbiamo dei tag semantici, cioè che aggiungono maggiore semantica alle pagine. E possiamo distinguere questi tag che ad esempio possono connotare delle aree della pagina, quali ad esempio possono essere il tag header, che normalmente viene destinato all'intestazione della pagina, che contiene sempre il menu o altri link di riferimento, il logo. Il tag nav, navigation, che è solitamente destinato appunto per quelle parti del sito che ospitano link per la navigazione. Un contenuto centrale che è il main e il footer. All'interno del main possiamo distinguere altre aree, come ad esempio quelle dell'articolo. Mentre per quanto riguarda una struttura realizzata con tag non semantici, ad esempio allocando degli oggetti all'interno di queste strutture caratterizzate dall'elemento div. Solitamente viene utilizzato per poter, diciamo, dare una connotazione univoca a questi componenti, viene utilizzato l'id. id è appunto una connotazione univoca della pagina, quando troviamo più id che riportano la stessa dicitura, è un errore di parsing. Nel caso di questa pagina, esempio, abbiamo questa testata, che è distinta dal div id header, così ne abbiamo uno per la sidebar, uno per il footer e per il contenuto centrale, che ospita altri contenuti. Diciamo che strutturare le pagine con una logica semantica sicuramente apporta delle migliorie al nostro sito o applicazione. E queste sicuramente sono identificabili nell'ordine e nella pulizia del codice della pagina web. La comunicazione corretta tra utente e tecnologia assistiva e il posizionamento delle pagine sui motori di ricerca. Tant'è che se utilizziamo correttamente le intestazioni di pagina, quindi come si, come sono strutturate H1, H2, H3, possiamo indicizzare correttamente le nostre pagine. Ho riportato qui un esempio di quello che può essere, ad esempio, un bottone e come questo bottone può essere stilizzato, può essere costruito in differenti modi. Uno di questi modi, ad esempio, è un tag non semantico. Spesso troviamo bottoni e altri oggetti allocati all'interno di div o span, che non hanno una connotazione semantica. e questo può succedere, ad esempio, quando utilizziamo un framework che rendirizzano il nostro codice in un altro modo. Bene, ad esempio, qui abbiamo un div che è stato stilizzato, magari con ICS e CSS, una buona porzione di codice. Questo div gli è stato dato all'aspetto di un bottone. Allo stesso tempo, questo div, però, se andiamo a nascondere i fogli di stile, non fornirà un nome accessibile, un content name. Mentre nel caso del bottone, dove è stato utilizzato il tag button, che implicitamente ha un ruolo di bottone, quindi ha anche una sua semantica ben strutturata, in questo caso avremmo un content name, quindi un nome di questo oggetto semantico, perché nascondendo anche foglie di stile questo nome sarebbe visibile. A valle di questo ragionamento c'è da dire che è preferibile utilizzare quindi tag semantici, ma anche perché ci danno la possibilità di scrivere meno codice. Nel caso di questo bottone, ad esempio, quello costruito col div, dovrebbe inserire un tab index valorizzato a zero per renderlo percepibile al focus. Bisognerà anche dargli un ruolo e dire che questo bottone è una connotazione di bottone e aggiungere anche altro codice per dargli tutte quelle funzionalità alla quale risponde normalmente un bottone. Quindi, tra gli errori, quelli più evidenti che intercettiamo quando ispezioniamo le pagine, ci sono gli errori nel nome. Ogni componente dell'interfaccia deve avere un nome accessibile. Se il nome non è correttamente impostato, le tecnologie assistive non sono in grado di percepirlo, di caratterizzarlo. Altri errori che riscontriamo, ad esempio, sono aree di navigazione prive di etichetta. Abbiamo l'attributo area label by, che normalmente, anzi, solitamente, deve essere associato direttamente a un'etichetta visibile. L'attributo area label by può essere di fatto utilizzato per annunciare delle aree di navigazione sul sito e per migliorare la qualità semantica della pagina. In questo esempio, abbiamo una porzione di, potrebbe essere la navigazione nel footer. Questa navigazione potrebbe essere utilizzata dall'utente, cioè potrebbe essere intercettata dall'utente e quindi navigata perché ha un corrispettivo nome accessibile che è identificato dall'ID. E quindi la barra di navigazione, che riporta un attributo area label by, chi siamo, è direttamente connesso alla sua etichetta, che in questo caso è un'intestazione di secondo livello, chi siamo. Per cui nel momento in cui uno screen reader va a interagire con questo blocco di link, potrà facilmente dedurre che si tratta di una porzione della pagina dove posso navigare tra i contenuti del chi siamo, quindi il team, progetti, contatti, o posso anche decidere di schippare e passare ad altro. Altri errori che riscontriamo solitamente sono link non testuali sprovvisti di un nome accessibile. Dove infatti non è possibile aggiungere un'etichetta esplicita, l'attributo area label fornisce un nome che può essere interpretato dalle tecnologie assistive. Nel primo esempio, è un esempio che riporta un errore, abbiamo un content name all'interno del bottone che effettivamente è visibile, esiste, però non ci dice nulla, è una X. Ora, notoriamente per un utente che naviga a vista la tastiera, questo simbolo ha chiaramente una connotazione di qualcosa che chiude questa finestra, ma interpretato da una tecnologia assistiva verrebbe letto come una X e quindi non aggiunge alcun significato, questo è un errore. In questo caso, aggiungendo un attributo area label, aggiungiamo un'etichetta nascosta, non visibile, a occhio nudo, ma che può essere facilmente interpretata da un lettore di schermo. Vi ricordo però che in linea di massima è importante associare delle etichette visibili alle nostre componenti, lì dove esprimono una funzione. Un altro caso, che ho riportato ed è corretto, è il caso di questo burger menu, che solitamente sono componenti che vediamo molto spesso, vengono anche utilizzati in modalità desktop, anche se normalmente la loro funzione dovrebbe essere quella di essere un pattern da dispositivo mobile, però ultimamente, negli ultimi anni, lo vediamo anche utilizzato molto spesso sulle testate, sul menu di navigazione principale dei siti. Ecco, questa immagine è racchiusa all'interno di un link ed è per lo più caratterizzata da uno span con dei simboli dentro che non rappresentano nulla, cioè letti da un lettore vocale. Per questo dobbiamo aggiungere un significato semantico, un nome, dare un nome semantico a questo oggetto che ne esprima anche la possibile funzione. In questo caso, questo oggetto si chiama, è un menu e esprime la funzione di aprire e chiudere questo oggetto. Vi abbiamo dato un'etichetta, forse neanche correttissima, apre e chiudi il menu. Bastava forse aggiungere solo il nome e aggiungere quelli che sono gli attributi per esprimere le azioni che sono associate a questo oggetto. La stessa cosa l'ho fatta con questa immagine in calce sul link e ho associato un'etichetta non visibile ma parlante per questa immagine SVG che appunto punta a una pagina Facebook. Un altro tipo, poi comunque oltre gli attributi area label, le etichette si associano anche tra ad esempio valore di label e input attraverso l'ID e il for. ID e for, così come l'attributo area label by, devono essere correttamente associati. Quindi l'etichetta area label by e il for devono essere correttamente associati al proprio ID. Tornando sempre nel contesto dell'attributo area label, quindi dell'etichetta non visibile, riprendo un esempio che ha fatto il collega Roberto sui collegamenti ripetuti in pagina. Spesso le scelte progettuali che riducono l'effetto visivo di un link influiscono sullo scopo del collegamento. Di fatto, se ci troviamo a navigare su una pagina che riporta più link con la stessa etichetta, ma che riportano a destinazioni diverse, questo viene ritenuto un errore. Ad ogni modo possiamo aggiungere maggiore semantica a questo link che riporta nella figura in calce, che riporta solo la dicitura di leggi di più, ma che non fornisce ulteriori istruzioni circa il contenuto che andrò a visualizzare, possiamo aggiungere maggiore semantica a questo link utilizzando un attributo area label. Ma in questo caso, l'attributo area label va utilizzato seguendo dei principi. Il primo è che il nome accessibile, quindi quello che attribuisco con l'area label, e l'etichetta visibile, quindi quella che vedo a video, devono corrispondere. Quindi sicuramente nella mia etichetta non visibile ci sarà una porzione di testo, quella iniziale, che dice leggi di più. La seconda regola è che il nome accessibile inizi con lo stesso testo dell'etichetta visibile. Vale a dire che io posso aggiungere del testo nella mia etichetta area label, ma questo testo deve essere identico alla parte visibile del testo riportato nel link a video e può aggiungere altre, ulteriori informazioni. Quindi deve iniziare uguale. Il primo esempio è corretto, il secondo esempio non è corretto, quindi leggi tutto l'articolo, né è corretto il terzo esempio, clicca e leggi di più. È vero che riporto il seguito della frase, leggi di più, ma quella deve essere riportata all'inizio dell'etichetta. La maggior parte degli elementi HTML, oltre a dover definire un nome accessibile, devono anche avere un ruolo. La maggior parte dei componenti che utilizziamo di per sé hanno implicitamente un ruolo che ne definisce lo scopo. Ad esempio un input di tipo radio farà delle cose, un input di tipo chatbox risponderà ad altre azioni, ma sicuramente i div e gli span non hanno un ruolo semantico. Un ruolo semantico ce l'ha anche quello che è notoriamente un link, come nella figura qui in calcio della pagina. Il link viene espresso tramite tag A e di per sé ha HRF e di per sé implicitamente sappiamo che cliccandoci sopra risponderà alla funzione di indirizzarmi su un altro contenuto. Questi oggetti che hanno semanticamente un ruolo, un loro ruolo, rispondono anche a degli stati. Ad esempio, nell'esempio precedente del radio button, sappiamo che un input di tipo radio button risponderà alla... potrà essere selezionato, non selezionato o disabilitato. Mentre per quanto concerne ad esempio i bottoni, i bottoni sappiamo che hanno un loro stato di default che è statico, rispondono all'over, possono essere pressati o disabilitati. Queste sono tutte, diciamo, stati impliciti che hanno questi oggetti per loro natura. Ma ritornando all'esempio del bottone che abbiamo costruito con un div non semantico, quindi, e con un tag semantico che è il button, andando a ispezionare quello che è l'accessibility tree e quindi come vengono trasferite le informazioni in pagina dal DOM a questo albero che riporta le informazioni di accessibilità, possiamo notare come il bottone costruito con il div non semantico, innanzitutto, come dicevo prima, non avrà un content name, non avrà un nome accessibile. E lo possiamo vedere nella prima figura che riporta l'alberatura dell'accessibility tree. non ha un nome e questo bottone non ha neanche un ruolo. Mentre per quanto concerne il bottone costruito con il tag semantico button, già così ci dice che questo bottone ha un nome, che è stampa, e ha un ruolo, che è quello di essere appunto un bottone. Quindi preferite sempre tag semantici lì dove possiamo utilizzarli in luogo di tag di elementi non semantici. L'attributo role viene utilizzato molto spesso per dare un corrispettivo semantico a quelli che sono oggetti che non ne hanno uno nativo e quindi non può essere prevedibile alle tecnologie assistive. L'esempio qui riporta un oggetto che viene notoriamente connotato come una toolbar, quindi è una barra che ha degli strumenti, ad esempio una barra per stilizzare le formattazioni del testo, e questa struttura ha un ruolo di toolbar, quindi dichiariamo la natura di questo oggetto, ma dovrà fare altre cose, non basterà dichiarare il ruolo. Ogni singolo componente di questo oggetto dovrà poter ricevere il focus, essere navigabile e selezionabile tastiera, e pertanto dovrà essere riconoscibile alle tecnologie assistive. Ora riprendo l'esempio, o la domanda che ha fatto qualcuno poco fa, quando si chiedeva posso utilizzare un attributo aria per dare un nome a un oggetto in contemporanea a un title, ad esempio, sì, si può fare perché non dobbiamo solo guardare quelle che sono le disabilità che possiamo agevolare con l'utilizzo di lettori vocali, ma dobbiamo anche rendere percepibili queste informazioni anche ad utenti che ad esempio presentano disabilità di tipo cognitive. Ed ecco qui che infatti, mettendo a focus, soffermandoci sul bottone, il primo bottone di questa toolbar, spunta l'etichetta bold, perché definisce di fatto quella che è la funzione di questo bottone, cioè di aggiungere, scusate che si spostano le slide, di aggiungere semantica a questo oggetto. E quindi c'è un attributo che aggiunge anche visivamente un'etichetta e che ne esprime il senso, così come sarà per tutti gli altri oggetti posizionati su questa toolbar. Ma il ruolo può essere utilizzato anche per definire delle aree di navigazione. Ad esempio, qui abbiamo un pannello, un accordion. Questo accordion è sicuramente strutturato con degli elementi semantici, quindi magari ogni intestazione sarà ad esempio un H3, un'intestazione. Questo accordion dovrà inoltre trasferire delle informazioni all'utente e quindi dovrà poterlo intercettare rapidamente all'interno della pagina, dovrà essere attivo, rispondere a tutti quelli che sono i comandi da tastiera, quindi ricevere il focus, mettere in evidenza un oggetto e poter, ad esempio, nel caso della terza schermata, dare questa informazione che questo pannello è espanso tramite l'attributo Aria Expanded. L'attributo Aria Expanded, di fatto, riflette quello che è il valore dell'attributo di raggruppamento e quindi esprime il senso di espanso o compresso. Come nell'esempio riportato qui in calce, abbiamo sempre il menu, il burger menu. In questo momento, nella schermata sinistra, il pannello è collassato e chiuso, mentre nella schermata a destra è espanso. Il valore dell'Aria Expanded può essere solo vero, falso o non definito. Quindi, i ruoli Aria, tecnicamente, dovrebbero essere utilizzati per fornire, nascono per fornire, maggiore semantica lì dove è necessario aggiungerla. per cui vengono utilizzati per descrivere delle aree o degli elementi che non esistono nativamente in HTML. Riporto qui due strutture, una costruita con tag semantici a destra dell'HTML5, quindi il tag header, nav, main, footer, sono, diciamo, le principali aree della pagina di un sito. Mentre, per quanto riguarda un sito che ha bisogno di aggiungere semantica perché non è stato costruito, non è stato predisposto con elementi semantici, avrà bisogno di etichettare certe zone della pagina, come ad esempio con il div role banner che identifica l'header, il navigation che identifica aree di navigazione, in questo caso l'area principale di navigazione del sito, il main che è destinato all'area centrale contenutistica della pagina e contentifo che è notoriamente destinato per quella che è l'area del footer. E pertanto un errore e una ridondanza utilizzare i role su elementi semantici che già definiscono di per sé la struttura della pagina o di quella porzione di pagina. Ecco qui rappresentato un esempio del V3C per quanto riguarda gli attributi area nello specifico i ruoli. Come avviene, come può essere navigata una pagina attraverso le region, quindi attraverso landmark, il role landmark, quindi definendo delle regioni, delle aree di navigazione all'interno della nostra pagina che possono semplificare la navigazione da parte degli utenti e soddisfano e soddisfano anche quello che è requisito dei salti di blocco. Ora, è un errore utilizzare eccessivamente questo tipo di tag perché può creare una struttura eccessivamente complessa. Ad esempio, spesso si vedono elementi di tipo di lista da soli annidati all'interno di un elemento di navigazione questo crea veramente una grande difficoltà agli utenti che utilizzano tecnologie assistive a muoversi agevolmente tra i controlli della pagina. Tra gli errori che riscontriamo solitamente quindi anche in fase di analisi e nella fase di parsing sono errori dove vengono attribuiti dei tag che però non rispondono a quel tipo di ruolo associato ad esempio il role button non può essere associato a un tag di tipo lista viene identificato come un errore un altro tipo di errore che riscontriamo può essere esempio associare a un tag di tipo input un ruolo perché implicitamente input attraverso l'attributo type può connotare la sua natura e ad esempio questo caso nel secondo esempio il type search indica di fatto un oggetto che è destinato alla ricerca mentre input role search non può essere validato un altro tipo di errore che riscontriamo è nell'utilizzo del role alert questo tipo di attributo non può essere ospitato all'interno di un tag di tipo list che contiene una lista il tag alert viene notoriamente utilizzato per comunicare istantaneamente l'utente un messaggio importante un messaggio di stato importante quindi come e quando utilizzare gli attributi area label area in generale gli attributi area si utilizzano quando si costruisce un elemento personalizzato e l'elemento che viene steso non trasmette la semantica di accessibilità appropriata quindi come nei casi che abbiamo visto poc'anzi e quando i test di accessibilità rivelano che i browser e le tecnologie assistive forniscono un supporto migliore una comprensione migliore con l'utilizzo di questi attributi o quando l'html non può essere stilizzato in modo soddisfacente da poter soddisfare requisiti di tipo visivo del design visivo per verificare questo criterio di successo occorre procedere in questo modo innanzitutto bisogna individuare le componenti presenti nel sito e nelle pagine e verificare che queste componenti abbiano un nome un valore e lo stato associati i ruoli adeguati associati inoltre questo possiamo farlo ispezionando l'accessibility tree che è disponibile nella gran parte dei browser facendo tasto destro con il mouse ispeziona possiamo ispezionare il codice e visualizzare il pannello dell'accessibility tree che è solitamente destinato allocato nella sezione dove ci sono anche i CSS attributi e altri elementi di questo genere in più a corredo della verifica quindi manuale possiamo agevolarci utilizzando dei tool che permettono di evidenziare errori per quanto riguarda il nome il ruolo o il valore associato possiamo innanzitutto utilizzare in fase sviluppo gli strumenti di sviluppo che solitamente possono fornire anche dei suggerimenti su come compilare un determinato tag o una funzione o sicuramente passare poi alla validazione del codice che rivelerà quelli che sono gli errori di parsing della pagina e in più possiamo sicuramente utilizzare delle estensioni da browser così come esistono estensioni che possono validare ad esempio il colore cioè possiamo vedere contrasti colore o valutare altro tipo di esigenze così possiamo anche utilizzare questi tool per agevolarci nella fase di verifica di questi componenti che abbiano effettivamente rispondano al requisito 412 nome ruolo e valore e questo è quanto ora si Michela ci sono diverse domande le trovi nell'area riservata allora nell'area riservata vediamo dove sono cerco quelle mie perché sto guardando anche quelle di Roberto ho fatto allora ok framework molto utilizzati come bootstrap però ostacolo questa cosa introducendo molti tag non semantici e di fatto sì è vero però diciamo che ci sono anche delle tecniche per poter raggirare questo tipo di di errore ripeto comunque ci sono più modi di ottenere lo stesso risultato non c'è una tecnica in assoluto che è più consigliata di altre ci sono diverse soluzioni e dobbiamo per ogni soluzione tener conto di quelle che sono la totalità delle disabilità che possiamo incontrare quindi non bisogna soddisfare unicamente i bisogni degli utilizzatori di screen reader ma bisogna anche ricordarci che ci sono altri tipi di disabilità come quelle ad esempio visive e anche i testi alternativi i sottotitoli tutte queste altre cose sono necessarie da implementare c'è un modo per mandare testi diversi a screen reader e a display braille c'è un modo per mandare testi diversi a screen reader e a display braille risposto roberto in quanto mandi notifiche al browser e la tecnologia assistiva che interagisce col codice quindi no questo non è possibile la formazione poi magari ne parlerete con i nostri responsabili se il nav segue l'h inteso come heading h1 non è già implicito che è meno relativo al titolo allora gli screen reader possono navigare attraverso i contenuti in diversi modi possono navigare tra le intestazioni tra i link tra le regioni che sono state connotate all'interno della pagina quindi diciamo che ci sono diverse modalità anche utilizzando uno screen reader allora mi scuso per la lunghezza la domanda in generale e a chi può darmi una risposta con riferimento alla domanda precedente sui componenti che si possono aggiungere ai siti per migliorarne l'accessibilità no ok ha risposto anche il mio collega qui non ci sono non esistono layer che possono sostituirsi a quelle che sono le normali verifiche e test di accessibilità che solitamente effettuiamo sia con strumenti di validazione automatica ma sempre sempre con una validazione anche soggettiva cioè non possiamo sostituire la valutazione soggettiva con strumenti automatici tant'è che ad esempio potremmo ecco ad esempio utilizzare un testo fornire anche un nome un oggetto ma potrebbe non essere un nome accessibile se io nell'area label metto ad esempio una X quella viene riconosciuta magari come etichetta ma non viene riconosciuto come etichetta parlante facendo la verifica di accessibilità soprattutto quando questi componenti non sono sempre attivi come vanno considerati gli errori presenti e corretti dal componente stesso quando attivo ok la devo rileggere perché non l'ho capita va ispezionato il codice io normalmente si utilizzo sia l'accessibility tree ma faccio una bella valutazione del codice soggettiva quali test di accessibilità si possono fare o applicativi esistenti usare per fare una verifica sull'accessibilità sulle app allora come anticipava il mio collega Roberto la navigazione dei contenuti da dispositivi mobili funziona completamente in un altro modo quindi semmai più là magari possiamo programmare anche un intervento su come accedere ai contenuti in modalità accessibili da dispositivi mobili allora questa è la risposta Roberto esempio di questi tool beh innanzitutto quando facciamo ispezione di una pagina è bene utilizzare sicuramente uno screen reader ce ne sono alcuni che sono gratuiti ad esempio NVDA mi pare e altri come jobs che in modalità estesa sono a pagamento ma che possono anche essere utilizzati diciamo in questo modo in più possiamo utilizzare l'accessibility tree e possiamo sicuramente dobbiamo validare il codice all'interno delle pagine e sistemare quelli che sono gli errori di parsing allora ci può scrivere per favore il nome degli screen reader allora quando faremo così gireremo risponderemo a tutte le vostre domande e in più inseriremo quelli che sono dei tool gratuiti che possono essere utilizzati per la validazione dei nostri contenuti quindi sia screen reader ma eventualmente anche tool o strumenti per il browser estensioni da browser basta insomma guardare un po' su internet ce ne sono veramente di tutti i tipi ma consiglio sempre di verificare l'autenticità dell'errore riportato perché non sempre quello che è un errore che è stato identificato con un tool può fornirci effettivamente una risposta veritiera quindi va sempre tutto verificato manualmente ok grazie grazie a questo approfondimento su aria c'è tantissimo da dire su aria ho fatto veramente una brevissima introduzione sperando di aver dato quelle che sono le informazioni principali e il modo in cui dovremmo utilizzare questi attributi perché ripeto già i tag HTML5 di per sé hanno una loro semantica che può rispondere a buona parte delle esigenze dell'utente ok altre domande i geoportali le applicazioni widget e in generale le cartografie web come possono implementare l'accessibilità c'è sicuramente un gran lavoro da farci dietro ma sì è possibile è possibile strumenti ok indicazioni per strumenti per verificare l'accessibilità delle app anche questo magari parliamo con i colleghi e cercheremo di fornirvi tutte le istruzioni del caso allora Daliele Uranio per inviare testi diversi corredare con informazioni diverse in modo possibile ad esempio giocare con la media query display non hidden sì bisogna però stare attenti che quando nascondiamo dei contenuti che questi contenuti vengano resi accessibili comunque cioè bisogna capire che cosa effettivamente non è utile alla navigazione con screen reader ad esempio e che cosa lo è normalmente tutto quello che è all'interno della pagina ad eccezione delle immagini a scopo decorativi ha dignità di essere annunciato ok non so se mi rimane il tuo tempo penso di aver finito Michele se vuoi rispondere a qualche altra domanda siamo ancora nei in orario diciamo rispetto al programma di questo webinar prego 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 ok sarebbe utile continuo allora sarebbe utile organizzare un ciclo di webinar che vado a toccare in modo approfondito come questo e anche tutti gli altri criteri di successo anche se mi rendo conto della mole di lavoro tuttavia ci sono alcuni criteri che non sono chiarissimi allora beh sì sicuramente dei corsi di formazione sono un bel nice to have rispetto a quello che sono tutti i requisiti di accessibilità indubbiamente però vi ricordo che sul sito del V3C ogni singolo requisito è accessoriato anche di esempi di best practice e di quelli che possono essere i possibili errori quindi andando un po' ad approfondire la letteratura sicuramente si possono trovare le risposte che stiamo cercando oltre chiaramente a quelli che saranno poi cicli formativi ma sicuramente la letteratura è sempre in estensione motivo per cui non l'abbiamo tradotta dall'inglese all'italiano perché sono circa 1600 pagine di esempi di codice che viene costantemente aggiornata bene allora Michela se vuoi rispondere a qualche altra domanda adesso prego prego allora sì poi c'è una stagione ma non è troppo aleatorio rischioso fare una verifica a mano per le app posso? ok allora ho fatto un seminario per la commissione europea su questo tema proprio quindi parlando proprio di questa di questa tematica il fatto è che ad oggi non esistono tecnologie se non pochi applicativi di supporto in ambiente google ad esempio esiste uno strumento in ambiente apple non l'ho ancora visto perché il problema è che andiamo a verificare comunque del codice generato cioè la pagina web è vado a vedere il codice html vedo il sorgente nelle app il test di accessività dovrei farlo prima della pubblicazione e gli strumenti tra l'altro di sviluppo consentono alcuni check però torniamo al discorso che facciamo prima anche Fabrizio Caccavello ha pubblicato un articolo su queste tematiche nessuno strumento né di verifica né di correzione automatica può fare tutti i check l'esempio del test alternativo un test alternativo la macchina ti può dire se c'è o se non c'è ma in un'app mobile devi testarlo devi attivare lo screen reader integrato e ti dice immagine se dice immagine vuol dire che manca il test alternativo se dice immagine legge previous vuol dire che non è stato tradotto il test alternativo i check vanno fatti a mano purtroppo è una rottura di scatole lo so però il test vanno fatti a mano ad oggi la situazione è questa ok poi c'è un'altra domanda e dice è possibile utilizzare CSS per emulare dei componenti ad esempio fillset senza che venga interpretato dallo screen reader allora partiamo dal presupposto che una pagina deve essere disponibile e quindi anche i contenuti nella loro semantica deve essere disponibile anche disattivando i fogli di stile e i javascript quindi i fogli di stile devono essere utilizzati per formattazioni per dare stile agli oggetti alle pagine ma non possono sostituire delle funzioni anche se con il CSS3 possiamo aggiungere sicuramente dei comportamenti ma probabilmente non è solo l'unica via di uscita tutti e due se volete rispondere a un'ultima domanda poi ci avviamo alla conclusione perché siamo un po' oltre i i tempi previsti dal webinar e qualche partecipante sta iniziando a lasciare la stanza quindi se volete scegliere un'ultima domanda altrimenti direi che avete risposto in maniera esaustiva a diverse decine di domande quindi spero che i nostri partecipanti possano ritenersi soddisfatti in ogni caso vi ricordo abbiamo un terzo ultimo webinar previsto il 13 aprile quindi ci sarà anche occasione per tornare su questi argomenti ditemi voi se volete rispondere a un'altra domanda altrimenti ops prima chiede se è possibile questo posso rispondere io allora direi che possiamo avviarci alla conclusione mi prendo giusto un minuto per ricordarvi che tutti i materiali quindi la registrazione integrale del webinar e le presentazioni dei nostri relatori saranno disponibili già dal primo pomeriggio su eventi PA e in una playlist dedicata su youtube quindi potrete rivedere la registrazione sono liberamente disponibili quindi potete segnalarla anche a colleghi a persone interessate a questi argomenti che non hanno potuto partecipare al webinar visto che abbiamo potuto chiudere le iscrizioni con qualche giorno d'anticipo rispetto al primo webinar perché abbiamo raggiunto il limite massimo di iscritti vi ricordo che il prossimo webinar si svolge il 13 aprile sempre dalle 12 alle 13 e 30 nell'ultimo incontro avremo altri due relatori sempre di Agit Alessio Mantegna e Pasquale Popolizio e torneremo a parlare degli errori più comuni che sono stati rilevati attraverso il monitoraggio che Agit fa dei siti della pubblica amministrazione altra informazione di servizio l'attestato le presenze a questo webinar verranno attestate solo al termine del ciclo quindi se non vedete la vostra presenza attestata su eventi in piano non vi preoccupate è tutto normale e ultimissima promemoria vi ricordo quanto vi dicevo anche nell'introduzione entro il 31 marzo le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di compilare gli obiettivi di accessibilità per l'anno in corso quindi se tra di voi ci sono responsabile della transizione digitale o volete segnalarlo all'interno della vostra amministrazione fate riferimento al sito formo.agit.gov.it da cui poi il responsabile potrà inserire gli obiettivi per quest'anno io direi che se non ci sono altre interventi da parte dei relatori possiamo avviarci alla conclusione io ringrazio tutti voi per la partecipazione siete stati numerosissimi oggi abbiamo avuto un picco massimo di 800 partecipanti un numero molto alto che ci fa molto piacere evidentemente questo ciclo di webinar era particolarmente atteso ringrazio i relatori per la chiarezza e la esaustività anche nelle risposte e a questo punto visto allora direi di chiuderle questo webinar e vi auguro buon pranzo arrivederci al 13 aprile grazie a voi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti